Che ne dice di cominciare? E così vuole che le racconti la storia della mia vita? Gliela racconto. Gliela racconto tutta. Accidenti! Sono di carne e sangue, ma non sono umano. Non sono più umano da 200 anni. Dal romanzo di Anne Rice, un film di Neil Jordan, regista della moglie del soldato. Sono venuto in risposta alle tue preghiere. La vita non ha più significato, vero? Il suo nome è Lestat. Vuoi che ti restituisca la tua vita? Ti tolgo il dolore, ti do un'altra vita. Una vita che non puoi neanche immaginare. Ti vedo dormire in mezzo alla sete. Ha scelto un uomo. Gli ha dato un potere infinito. La vita eterna. E una figlia che sarà giovane per sempre. Questo è l'unico vero male rimasto. E poi ha spento la luce del giorno. Ah! Tu sei un vampiro. Non hai mai saputo cosa fosse la vita finché non ti è uscita dalla bocca in un fiotto di sangue. Non riesco a resistere oltre. Tu ci hai fatto diventare quello che siamo! Dio uccide indiscriminatamente. E così faremo noi. Ti piace morire? Condannami all'inferno! Sei un mostro. Un'unica famiglia felice. Prendi la luce. Metti fine alle sue sofferenze e alle tue. Ma non avere dubbi. Tu sei un assassino! Ne voglio di più. Tom Cruise Brad Pitt Stephen Rea Antonio Banderas Kirsten Dunst e Christian Slater Intervista col Vampiro Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst